Oltre mezzo milione di danni, questa la cifra chiesta come risarcimento dal liquidatore dell'ex Banca Etruria Giuseppe Santoni, alla quale adesso si è unito anche UbiBanca. L'azione di responsabilità, mossa nei confronti degli ex vertici dell'istituto bancario Aretino, al quale è stato chiesto un maxirrisarcimento, aveva preso avvio lo scorso ottobre, un procedimento che questa mattina è iniziato davanti al Tribunale delle imprese di Roma. Tra i chiamati in causa, gli ex presidenti Lorenzo Rosi e Giuseppe Fornasari, gli ex vice presidenti Pierluigi Boschi, Alfredo Berni, Giorgio Guerrini e Giovanni Nghirami, nonché l'ex direttore generale Luca Bronchi. La Corte del Tribunale Romano adesso è chiamata a far chiarezza sull'erogazione e la gestione di mutui e finanziamenti, anche in conflitto di interessi, il depaperamento del patrimonio sociale mediante numerose iniziative contrarie alla prudente gestione e le iniziative di indebito e lecito ostacolo alla vigilanza di Banca Italia. La cifra totale richiesta come risarcimento d'anni ad oggi ammonta 577 milioni di euro. Intanto, venerdì 11 ottobre, si tornerà in aula anche per il maxiprocesso sul crack di Banca Etruria. Dopo Giuseppe Santoni saranno ascoltati gli ispettori di Banca Italia.